I soldi ci sono stanziati dalla regione e ripartiti dal comune di Chieti, ma l'iniezione di liquidità per la società di trasporto La Panoramica non ha ancora raggiunto la meta. La situazione al limite del paradossale è tornata di attualità alla vigilia del tavolo convocato dal prefetto di Chieti per favorire il dialogo tra le parti interessate. Saranno presenti i sindacati dei trasporti Filt CGL, Filt CISL e Faisa CISL. Questa è stata proprio una richiesta che abbiamo espressamente sollecitato a sua eccellenza il prefetto, perché qui stiamo parlando di un provvedimento adottato dalla regione Abruzzo che ha stanziato 400 mila euro in favore dell'amministrazione comunale di Chieti. Poi l'amministrazione comunale di Chieti ha provveduto a ripartire questa somma destinando 250 mila euro a ristorare i lavoratori per la contrattazione di secondo livello che è stata disdettata da più di due anni dall'azienda e 150 mila euro anche per finanziare ulteriori servizi per la città di Chieti, servizi di trasporto pubblico locale. Ebbene a fronte di questi due provvedimenti quindi contestuali sia da parte della regione che da parte dell'amministrazione comunale, noi invece abbiamo trovato un'azienda non disponibile a recepire queste indicazioni e sostanzialmente vorrebbe fare cassa rispetto a queste somme che sono state destinate dagli enti pubblici. Quindi tutto ciò per noi non è accettabile anche perché io voglio ricordare che la disdetta del contratto aziendale è arrivata proprio nel bel mezzo della crisi pandemica quindi è una situazione che va avanti ormai da due anni e mezzo, cui è seguita la crisi energetica, quindi in un contesto nel quale normalmente già nelle aziende dove non assistiamo a disdette di contrattazione aziendale si fa fatica a arrivare alla fine del mese. Figuriamoci per i lavoratori della panoramica. Cosa chiederete domani al prefetto? Noi ci rivolgeremo al prefetto ma ci rivolgeremo soprattutto ai due enti interessati, per questo abbiamo chiesto espressamente che fossero presenti anche loro perché questo balletto sicuramente non potrà andare avanti più all'infinito. Se questa impresa che ha dei contenziosi con la regione, per espressa affermazione di chi è titolare di questa impresa, ha dei contenziosi con l'amministrazione comunale, non condivide peraltro anche la linea dell'associazione datoriale alla quale appartiene e che recentemente ha rinnovato il contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, facesse una riflessione, se non è la condizione di poter sostenere questo servizio, facesse un passo da parte.